Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come potenziare il volume su Windows Molto semplice, questa applicazione è cercavo un'applicazione giusta per le mie cuffie Razer E niente, mi dicevano di comprare un driver che sta a 20 dollari ma va a quel paese perché io non compro niente per amplificare il suono Quindi ho trovato questa applicazione FX Sound Madonna E' un'applicazione che ti boosta il volume e adesso vi faccio vedere Allora, prendo la musica, ok, applicazione Ok, provate ad ascoltare la musica senza il boost Ok Visto? Ora qui possiamo scegliere qualsiasi dispositivo che sia collegato al PC Quindi prendo il monitor, un altro monitor, la linea di voice mode che non uso da parecchio E qua possiamo selezionare i film, tv, musica, per esempio musica, ok, sì Possiamo aumentare anche la chiarezza, l'ambiente Ok Spinta al dinamico Ok, sta aumentando Visto ragazzi, quindi ragazzi se questo video vi è stato utilissimo su come boostare il volume al massimo Link in descrizione per l'applicazione Mi raccomando iscrivetevi anche al canale per altri tutorial Attivando anche la campanella Mi raccomando rispondete anche a questo sondaggio che ho appena pubblicato Già 10 voti Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao